Emma Marrone Dark Lady, il suo stile glam rock ha stregato i fan Lo cantante Salentina Emma Marrone è diventata una vera influencer sui social, sono numerose le foto che ha pubblicato su Instagram in cui si mostra ai fan con look rivoluzionari e decisamente trendy Una delle ultime foto pubblicate sul suo profilo la ritrae con uno stile glam rock, mentre è in macchina e inaugura la settimana insieme ai suoi follower La star ha fatto il pieno di like e commenti e in poche ore la foto ha raggiunto più di 52 mila mi piace, oltre i commenti di sostegno che riceve ogni giorni dai suoi fan In particolare Emma Marrone ha stupito tutti per la reazione che ha avuto contro il suo hater nella vicenda di cui si è parlato anche in alcuni programmi televisivi, una prova ulteriore della maturità della cantante. Rock, uno stile di vita È vero che Emma Marrone canta canzoni pop, ma è altrettanto vero che per lei il rock è un vero e proprio stile di vita Questo lo dimostra ogni giorno con i suoi outfit su Instagram, ma anche nella nuova collaborazione per il CD che uscirà nei prossimi mesi, insieme ad alcuni componenti delle band subsonica e Yamiroquai Il suo stile è inconfondibile, spesso su Instagram condivide con i fan le foto dei suoi outfit ribelli, composti da giacche di pelle, occhiali scuri e jeans magari strappati Un esempio è stata una delle ultime foto pubblicate dalla cantante sul suo profilo, la marrone indossava un chiodo di pelle nero, una t-shirt bianca, un paio di occhiali neri vintage e i capelli sciolti e mossi, un po spettinati Lo sguardo serio e imbronciato da Vera Rockstar mentre guardava la fotocamera è stato un plus che ha fatto letteralmente impazzire i fan La star ha condiviso con il suo pubblico linizio di una nuova settimana, sicuramente per lei ricca di novità Emma si trovava in macchina e nella foto compare la cintura allacciata, mentre i raggi del sole le illuminano il viso, valorizzando i suoi lineamenti In poche ore la foto ha raggiunto più di 52 mila like e oltre 500 commenti di apprezzamento. Emma Marrone e i suoi look da trendsetter Non è la prima volta che Emma Marrone pubblica su Instagram delle foto che la ritraggono con un look da Vera Trendsetter Prima della foto con lo stile glam rock, la cantante si era mostrata ai fan durante le registrazioni in studio indossando un maglione rosa vintage e il suo immancabile chiodo nero di pelle Alcuni giorni prima invece, aveva condimiso un breve video in cui indossava jeans larghi a vita alta, una maglietta bianca con la scritta Forever or Never in stile vintage e una giacca rosa Anche questo look è stato molto apprezzato dai fan con oltre 200 mila visualizzazioni Durante i suoi show, la Marrone indossa outfit sexy e provocanti, ma senza esagerare, in una foto pubblicata su Instagram la star sfoggiava un abito nero simitrasparente, con un paio di decoltè in tinta Infine, ha riscosso molto successo anche il suo look vintage anni 70 con la camicia a fiori scollata, una collana pendente e un paio di occhiali fumerosa Infine, ha riscosso molto apprezzato, un paio di decoltà, un paio di decoltà, un paio di decoltà, un paio di decoltà, un paio di decoltà